Un nuovo strumento donato dall'Unione Italiana Cechi e Ipovedenti, sezione di Arezzo, all'unità operativa di oculistica dell'ospedale San Donato, in occasione della giornata mondiale della vista. La macchina, del valore di 1.500 euro, va ad arricchire la dotazione del centro di ipovisione di Arezzo, dove ogni anno vengono valutati oltre 400 soggetti ipovedenti. Ratifichiamo con gioia la donazione all'ASL locale di questo strumento, un videoingranditore a colore di ultima generazione, che pensiamo presso il centro di ipovisione che c'è appunto presso l'ospedale di Arezzo. Possa essere uno strumento molto utile per persone che si affacciano purtroppo al centro di ipovisione di Arezzo con gravi problematiche visive, per la diagnosi e anche per fare una strategia di riabilitazione visiva che possa aiutarle. Ogni anno nel territorio aretino l'unità operativa di oculistica esegue 90.000 prestazioni, 6.500 interventi chirurgici, 1.000 trattamenti laser, 6.000 esami diagnostici e 16.000 prestazioni di pronto soccorso. E proprio per la giornata mondiale della vista, l'ASL Toscana Sud-Est si impegna per promuovere la prevenzione in ambito oculistico. Abbiamo aperto gli ambulatori di tutta l'azienda, quindi non solo della provincia di Arezzo, ma anche della provincia di Siena e di Grosseto, per fare delle visite complete di prevenzione in persone che negli ultimi anni non avevano fatto nessun tipo di visita oculistica.